Il fratello minore di Enrico si è sicuramente meritato la palma di miglior debuttante del tabellone individuale del Fioretto, arrivando fino alla finale tutta italiana contro Andrea Cassara. I due si erano già incontrati altre due volte nel corso della stagione collezionando una vittoria a testa. L'inedito spareggio alla finale europea ha visto il catanese tenere testa al campione bresciano fino alla decima stoccata, dopo la quale il favorito ha preso il volo fino al successo finale. Fin qui si potrebbe parlare di europeo da sogno, ma in mattinata è arrivata la delusione a squadre. Il Dream Team, composto da Garozzo e Cassara con il modicano Avola e Baldini, è stato fermato ai quarti dalla Gran Bretagna, vittoriosa per 25-45. Delusione a squadre anche per Rossella Fiammingo nella spada femminile, la campionessa del mondo di specialità dopo l'argento della prova individuale arrivata a Sino alle semifinali a squadre col quartetto completato da Mara Navarria, Bianca Del Carretto e Francesca Quondam Carlo, dopo aver battuto 45-28 l'Ungheria nei quarti nel penultimo atto, le azzurre sono state fermate sul 31-43 dall'Estonia e adesso si giocherà la medaglia di bronzo con la perdente dell'altra semifinale fra Francia e Germania.